musica 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 stanta eh non sia mai che chiudere quella porta ti faccio sudare stai lavorando e qui settimana poi fuori uscire giornale di corti volte avventura io sono da per mezzo a tempo io voglio uscire esci esci mi dici la porta vai con il pub vai a qualunque posto e ci prova a voi non ci prova affatto per noi c'è un processo di migli 40 euro di biglietto e comprensivo di semplenza andiamo i campi per efficaci incluso dici se andiamo al cinema va bene ma andiamo al cinema però non ho capito che non mi fai da volare sia ma questo è il diavolo dell'eschi diretti quindici sì ma qui c'è il pittocchi a casa tua abbiamo un omicidio bellissimo prima o poi ci sarà ma no buonasera oh guarda è fuori il pittocchi 42 interno 15 abbiamo dato un omicidio a questa volta il punto tra di quelle 100 e ecco gli altri indirizzo tutto qui prima ci sarebbe scritto dove dire i focani dove i primitari bla 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 ok io non ho più voglia di uscire ah allora tu adesso esci mentre se non esci lo vicino in questa casa la carabina ma molto prima di mezzanotte hai capito? sì sono valiente e sono valiente e sono valiente dentro la mia pescita e perché avverà l'omicidio e chi sarà l'aspettino non bisogna lasciarsi sfuggire neanche il minimo indizio bisogna farla volare le scelte critiche marco e soprattutto i gialli i capo lecce assistenti io mi sento proprio la signora i giallò e la mia si è fatta no non lo penso ne sono convinta di vediamo a la mia lecce si si i i i i i i i ah Sì, buonasera! 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 Mi sono molto imparazzata per la situazione Siamo così stata veramente Sarebbe rimasta a casa sua Io? Non ci sono nessuno ucciso Io credo che si datti Nel mio ex è più cansato Ah, dov'è questa sua risuscita? Ah, svegliati! No, so che sto già in codice Per il codice Ma a casa mia? Oggi Io sono tuttata Amata Molto E devo smettere di sentirmi Inadeguata a tutto questo amore Semmai non vi conoscete Sente Quando ogni qualcuno Non toglie di questi amare No? E aspettarmi il concetto lui Sì Il mio! Dov'a 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 Ah! Ci sono da poco? Sì! Sei l'arte? Sei l'arte? Sì! Sì! Ma non ce l'ha fatto agli anni? 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 Allora... Ma non ce l'ha fatto agli anni? Agli giornali? Agli giornali? Agli giornali? Agli giornali? Agli giornali? Eeeh... Intanto lei veduce che la veruscia è stato spesso per lei! Interessante! Interessante! Ma interessante è un cazzo! Oh, la vera è un cazzo! Ma tu è libero! Ah, libero! No, no, no! È libera in relazione! Ah, libera in relazione! Oltre perché comunque non possiamo concludere nulla! Non dobbiamo aspettare! E vediamoci ai... Dei fatti! Ecco appunto! I fatti! Solo che il mio lavoro contrario a questa è casa mia! E qualunque cosa che succede, se accadrà, se avverrà, voi aspetterete fuori di qui! sul pianerotto, per le scale, in strada, ma fuori di qui! Qui! Adesso! Gentilmente! Se volete togliere il disturbo! Tutte! Potete raccontarvi fuori! Prego! Voici! E a la cosa che potあります! E a prima cosa che ho parlato... Grazie.